Domani saranno 143 anni dall'apertura della ferrovia di Avellino. Sarà un anniversario amaro, dato che oramai dalla stazione è rimasso solamente il cartello. Sui binari di Avellino purtroppo passano da anni soltanto il vento e le tante parole, anche se di incontri se ne continuano a fare. Ieri ad esempio, in Regione Campania i consiglieri regionali Maurizio Petracca e Livio Petitto, insieme al delegato ai trasporti Cascone, hanno incontrato i tecnici di RFI per fare il punto sui lavori di elettrificazione e l'idea progetto per la Brotella di Codola che collegherebbe Avellino all'alta velocità. Tra le questioni trattate, il progetto di elettrificazione Avellino-Salerno che, come sappiamo, vede il tratto Salerno-Mercato Sanseverino attivo entro l'anno. Per quello che va da Mercato Sanseverino ad Avellino, i lavori registrano ritardi dovuti all'approvvigionamento di materiali e rete ferroviaria italiana si è impegnata a recuperare arrivando all'attivazione entro il 2024. L'intervento continuerà poi fino a Benevento, la previsione attuale è che i lavori relativi a questo ultimo pezzo di elettrificazione si chiuderanno entro gennaio 2025. A leggere i commenti dei presenti al tavolo con RFI pare che sia stato un incontro positivo che dalla regione arrivino buone notizie, elettrificazione, potenziamento per porre fine all'isolamento ferroviario. Insomma, i confronti si fanno, i tavoli si riempiono di buone intenzioni, ma intanto per i prossimi due o tre anni la stazione di Avellino rimarrà esattamente com'è.